Vince l'Inter con il Como una gara importantissima, siamo con Francesca Vitale, una gara importantissima, una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza. Sì, è stata una vittoria fondamentale perché abbiamo sorpassato il Como che era un punto più di noi, quindi adesso l'obiettivo della salvezza e comunque anche dei play-out è sempre più vicino. Una gara, come l'hai vista, molto combattuta, avete fatto bene, soprattutto avete subito poco. Sì, abbiamo subito poco, magari meno di altre partite, però è stata combattuta, anche loro ce l'hanno messa tutta giustamente per vincere. Alla fine abbiamo sofferto, però ce l'abbiamo fatta. Quindi è una buona notizia, soprattutto la vittoria ma anche il fatto di non aver preso gol e di aver fatto una partita solida. Sì, nelle ultime partite, a parte sabato scorso che ne abbiamo presi due, in difesa ci stiamo migliorando, anche oggi per fortuna non ne abbiamo subiti, quindi stiamo facendo dei buoni passi avanti. E adesso come si continua e quanto siete psicologicamente cariche per avvicinare perlomeno i play-out? Beh, la vittoria dà tanta carica, quindi adesso affronteremo sicuramente al meglio le prossime gare, partendo dalla Torres sabato prossimo, cercheremo di dare il nostro meglio. L'ultimissima, rimane un po' di rammarico per la gara con la Scalese? Tanto, tanto, tanto rammarico, il campo era veramente in condizioni pessime, non si riusciva assolutamente a giocare, però insomma non abbiamo scuse, dovevamo fare i tre punti.